Politiche giovanili, iniziative per gli anziani, sostegno alle cooperative e progetti di mobilità. Questi gli assi principali attorno ai quali ruoterà il programma 2013 dell'Euregio Tirolo Alto Adige Trentino, secondo quanto deciso a Bolzano dalla giunta del GECT. L'organo direttivo del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale si è riunito sotto la guida del presidente del GECT, Luis Durnwalder, ed è composto anche dai suoi colleghi Lorenzo Dell'Ai, in rappresentanza della provincia autonoma di Trento, e Günther Platter per il Land Tirolo. Al centro dell'incontro, il varo del programma operativo 2013 del GECT Uregio, per il quale l'Assemblea del GECT approverà a novembre il bilancio previsionale 2013. Per il prossimo anno, l'ente concentrerà le proprie attività nei settori socio-sanitario, con particolare attenzione agli anziani, delle cooperative, con target di comunicazione e gli studenti, della mobilità e dei giovani, come spiega Luis Durnwalder, presidente del GECT. I punti più importanti per il prossimo programma è sicuramente un programma per anziani, noi dobbiamo vedere un po' cosa si fa in queste tre parti del vecchio Tirolo, nel settore delle anziane, specialmente casa anziane, lungodecenti, eccetera, sia per la parte scientifica, come anche come organizzazione. Il secondo punto sono i giovani, noi vogliamo fare qualcosa sia per le lingue come anche per l'addestramento professionale, anche vedere lì cosa si può fare per i giovani. E il terzo punto, secondo me, forse oggi il più importante, è il traffico. Ci sono i continui lamentali che andare a Innsbruck, andare a Lienz, è troppo difficile. E perciò hanno detto che noi qui dobbiamo fare qualcosa, prima di tutto per coordinare un po' sia la parte tarifaria, tra le ferrovie austriache e quelle italiane, tra l'altra parte come organizzazione, cioè l'orario, e il terzo punto, specialmente anche la parte tecnica, specialmente Brennero, che non dobbiamo uscire dal treno e poi cambiare il treno, ma che uno possa andare avanti senza fermarsi, perché questo è troppo complicato, perché altrimenti è così, che uno deve uscire dal treno, deve fare 100 metri a piedi per poi entrare nel prossimo treno, devi avere un biglietto, se no devi pagare una piccola multa, questo non può andare avanti così. E qui vorremmo fare un coordinamento tra i vari uffici. Il traffico lungo la direttrice del Brennero è uno dei temi cruciali per l'Euregio, per il quale è necessario adottare politiche comuni da presentare insieme a Bruxelles, come ha ribadito il capitano del Land Tirolo, Günter Platter. Il traffico transalpino riveste un ruolo decisivo per l'euroregione, e quindi dobbiamo seguire una linea comune. Dobbiamo fare tutto il possibile per spostare il traffico pesante dalla strada alla rotaia. E lo strumento per fare questo è la galleria di base del Brennero. In questo caso ci siamo fatti valere, perché è importante avere a disposizione l'infrastruttura. Ma ora c'è anche bisogno di un cambiamento di rotta a Bruxelles, per quanto riguarda i problemi del traffico. Così oggi ci siamo messi d'accordo per procedere insieme. Dobbiamo farci sentire a Bruxelles con deliberazioni convergenti in materia di traffico pesante, per poter finalmente raggiungere il nostro scopo. Vorrei aggiungere un'altra cosa. Se un paese si presenta da solo, è troppo poco. Dobbiamo farlo insieme. Solo allora potremo avere successo. Per quanto riguarda le politiche giovanili, una delle principali novità sarà rappresentata dal primo Euregio Summer Camp, destinato a studenti delle scuole medie, che ha come obiettivo quello di favorire l'apprendimento delle lingue italiana e tedesca. Sempre i giovani saranno il target della prossima edizione del Festival della Gioventù, che dopo il grande successo dello scorso anno, tornerà nella primavera del 2013, coinvolgendo tutti e tre i territori dell'Euregio. In tema di cooperazione sarà organizzata la fiera Educa Coop, che punterà a rafforzare il legame tra mondo della scuola e mondo della cooperazione. La cura degli anziani sarà uno dei punti chiave del programma 2013 dal GECT, che prevede la realizzazione di uno studio sui modelli e le esperienze di eccellenza presenti nei territori dell'Euregio. Sempre in tema di sanità e politiche sociali, da segnalare l'approfondimento di possibili sinergie transfrontaliere nel campo della ricerca sul tema della radioterapia, l'organizzazione di una giornata di studi sulle cure termali e un convegno sugli aspetti giuridici legati alla mobilità dei pazienti in ottica transfrontaliera. Non da ultimo, Euregio sarà attivo nell'ambito delle politiche interculturali con un progetto finanziato con fondi europei, Diversity for Kids, dedicato all'integrazione dei bambini nelle scuole elementari e medie. Proseguirà dunque nel 2013 l'attività del GECT e Euregio, finalizzata la costruzione di una regione europea alpina che possa dare forza e rappresentanza ai territori di montagna, come ha evidenziato il presidente della provincia autonoma di Trento, Lorenzo Dell'Ai. Noi vogliamo costruire una regione europea delle Alpi perché la montagna alpina ha bisogno di essere difesa, di essere promossa e soprattutto ha bisogno di contare di più. La nostra esperienza di Euroregione è un contributo importante su questa strada e per questo vogliamo metterci in rete con tutti gli altri territori dell'arco alpino. C'è bisogno di più forza, di più potere, di più rappresentanza della montagna e noi abbiamo intenzione di lavorare in questa direzione.